Promosso dal consigliere comunale di Gorizia della lista civica per Gorizia, Fabrizio Orretti, si è svolto ieri nella sede della regione in via Roma di Gorizia l'incontro con il consigliere regionale di autonomia responsabile Renzo Tondo per affrontare con la cittadinanza i problemi che assilano Lisantino. In primo luogo è stato sollevato il problema dell'immigrazione, non poteva mancare la situazione sulla sanità, sul lavoro, sottolineata la vocazione turistica e culturale del goriziano e del manufatturiero. Alla conclusione in cui ha replicato il consigliere Tondo è stata concordata la necessità di incontri quindicinali per esaminare i singoli problemi cercando di trovare soluzioni concreti nell'ambito di un progetto globale anche a lungo termine. Il consigliere Tondo nel suo intervento introduttivo ha spiegato il suo modo di agire concreto e non demagogico impegnandosi a realizzare quanto realizzabile. Un incontro importante è questo di oggi. Abbiamo davanti a noi l'ex governatore Tondo ed abbiamo il piacere appunto di vederlo presente ancora a Gorizia. So che la gente vuole avere risposte concrete e vuole avere contatti diretti. Cosa ci dice sul risultato di questo incontro di oggi che mi sembra ha sollevato diverse problematiche che vanno affrontate senza ulteriori rinvii. Quello che lei ha definito il vivacissimo Fabrizio Reti ha fatto una bellissima riunione perché far partecipare una cinquantina di persone il lunedì sera a Gorizia con questo caldo per sentire un ex Presidente della Regione significa che c'è una grande attenzione e soprattutto questo mi consente di poter riprendere il contatto con una città a cui ho dato molto rispetto al quale c'è stato un bravo sindaco e c'è un bravo sindaco come Ettore Romoli che è stato della mia giunta sostenuta. Io non dimenticherò mai che nella mia legislatura si è progettato, realizzato, completato, finanziato e inaugurato la villessa Gorizia e non si è chiuso il punto nascita. È bastato che due donne goriziane o dell'Isontino fossero elette al Consiglio regionale come Sara Vito e Lauredana Panariti e il punto nascita si è chiuso. Fabrizio Reti sta oggi riallacciando le fila di un centrodestra civico che ha un disegno importante, quello di ricostruire il tessuto di questa Regione con il tessuto di centrodestra e riportare il centrodestra alla guida della Regione, riconfermarlo alla guida della città perché solo guardando i valori che il centrodestra interpreta oggi possiamo dare uno sviluppo a questa Regione. Sono molto soddisfatto per un semplice motivo, perché è importante ripartire dal territorio e la politica ormai è diventata autoreferenziale, non mi stancherò più di dirlo, basta con la politica che parla da sola e si risponde da sola. Bisogna cominciare a incontrare i cittadini, chiedere a loro cosa va e cosa non va e cominciare a dargli delle risposte. Questo non vuol dire che dovremmo dire sempre sì o che risolveremo sempre i problemi, sarebbe fin troppo facile, magari fosse così, però dobbiamo sempre dare una risposta, positiva o negativa, noi ci siamo e siamo al servizio dei cittadini. No, no, Gorizia assolutamente no, Gorizia è importante che rimanga nel centrodestra perché ricordiamolo, Gorizia purtroppo ormai fa parte di un enclave dove è tutto colore rosso e perciò è importante che Gorizia, Gorizia non ha bisogno di altre esperienze, Gorizia deve continuare ad essere una città di centrodestra perché Gorizia è una città che sta bene, deve migliorare, quello sì perché Gorizia ha bisogno di migliorare, ma città che sta bene ed è importante che rimanga nel centrodestra regionale. Dottor Tondo, l'augurio che fai ai Goriziani? L'augurio che fai ai Goriziani è di riprendersi il ruolo che in questa regione hanno sempre avuto, di una provincia che è importantissima dal punto di vista del turismo, delle bellezze architettoniche, culinarie, dalla spiaggia al collio eccetera, una provincia che è multiculturale, una provincia che ha tanta gente dinamica che vuole apparire sulla scena non solo della politica e del sociale, una società che non può perdere il suo manifatturiero, io chiedo un maggior impegno della regione sulle aziende in crisi che sono qui, chiedo perlomeno lo stesso impegno che è stato garantito nel Pordenonese, ecco io credo che si possa fare, noi ci saremo per questo. Guardi, noi ci siamo caratterizzati con un nome, autonomia responsabile, e cosa vuol dire responsabile? Siamo responsabili perché non promettiamo ai cittadini le cose che non si possono fare, devo dire che noi dobbiamo assumere le responsabilità e mantenerle, però ciò che non si può fare è dire una cosa e fare un'altra come ha fatto Deborah Seracchiani, noi diciamo le cose che faremo, Oretti riunirà presto un gruppo di lavoro a cui parteciperò anch'io, faremo un programma specifico per questa città e per questa provincia, noi siamo quelli del fare, siamo quelli che si assumono le responsabilità anche di dire le cose che possono non far piacere.